Ha visto il piano di Trump, è facile far finire la guerra, spingere l'Ucraina, accedere la Crimea e il Donbass alla Russia e limitare l'espansione della NATO? Più che piano sono dichiarazioni per la propria campagna elettorale, però il fatto che sia necessario negoziare e trattare per porre fine alla guerra, io lo dico da due anni, il problema è che ci hanno spinto con menzogne verso la guerra. Mi sono segnato Giovanni due dichiarazioni, settembre 2022, Draghi, effetto dirompente delle sanzioni sulla macchina bellica russa. Oggi Borrell, che è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, il ministro degli esteri dell'Unione Europea, situazione estremamente difficile in Ucraina, la macchina militare russa marcia a tutta velocità. Ci hanno riempito di fake news per trascinarci, per portarci lentamente ma inesorabilmente verso una guerra, dunque dopo due anni di menzogne e tra l'altro dopo due anni di enormi disastri sul fronte, la parte ucraina, perché stanno morendo davvero tanti giovani e tante donne ucraine, è tempo di negoziare e trovare una soluzione. È tempo anche che lei si confronti a breve con Idwar Lutwak. Di Battista, Israele sta vincendo la guerra con Hamas? Dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, Israele ha dichiarato al mondo intero due obiettivi rispetto alla sua operazione a Gaza. Uno, la distruzione di Hamas, per me non si potrà mai distruggere il terrorismo facendo una strage ignobile e indecente di bambini, oltre 14.000 morti, così si alimenta il terrorismo. E poi il secondo obiettivo era quello della liberazione degli ostaggi, anche questo non si sta raggiungendo. Io però ve lo dico, non è mai stato l'obiettivo di Netanyahu la liberazione degli ostaggi, tant'è che decine di migliaia di cittadini israeliani protesta contro il governo a Tel Aviv o a Gerusalemme. La maggior parte degli ostaggi flori sono stati liberati tramite un negoziato mediato dal Qatar tra Hamas e Israele. Israele ha addirittura giustiziato, giustiziato, sparato volutamente a tre ostaggi israeliani, perché credeva fossero civili palestinesi perché sparano contro qualsiasi cosa si muova. Allora, gli israeli hanno vissuto con Hamas molti anni e pensavano di aver raggiunto una specie di equilibrio non in amicizia, ma in ostilità, ma in equilibrio tranquillo. E loro intanto usavano i soldi mandati da tutti a Gaza per costruire case, gli hanno usato il cemento per fare il tour. Allora, Lutwak, il concetto è... Si sono addestrati e armati per l'attacco. Se un equilibrio si raggiunge, viene rotto in quella maniera, c'è anche una componente politica emotiva, culturale di risposta. Non solo si punta a distruggere Hamas, ma c'è anche una componente politica nella risposta di Battisti. Però il punto è che per me l'obiettivo di Israele non è la distruzione di Hamas, non l'ho mai stato. L'obiettivo di Israele è cacciare i palestinesi dalla terra dei palestinesi. Prima Lutwak parlava dell'equilibrio, anche se è un equilibrio non equilibrato. Questo è un rapporto di Save the Children del giugno 2022. Si chiama Intrappolati. 2022. Dopo 15 anni di blocco, perché Gaza è una prigione a cielo aperto, un lager, 4 bambini su 5 soffrono di depressione e vivono tra angosce e paura e più della loro metà. Il 55% ha pensato al suicidio. Questo è un rapporto del 2022. Dunque, prima dell'attacco di Hamas a Gaza, un bambino su due ha pensato al suicidio e la depressione era comune. Questa è la realtà. E oltretutto, nell'ultima settimana, troppo per parlare per me delle menzogne di Israele, della mala fede e del tentativo di allargamento del conflitto, Israele è riuscita a bombardare un'ambasciata della Repubblica Iraniana a Damasco. A quale paese al mondo è concesso di far questo il porco comodo senza che vi sia una reazione internazionale, perché Netanyahu vuole l'allargamento del conflitto? Allora, in Israele stessa ci sono due milioni di cittadini arabi. Molti di questi cittadini arabi sono nelle classi professionali. Provedono quasi metà dei dottori e così via. Comunque, due milioni di arabi. Questi arabi, in passato, hanno partecipato anche ai governi italiani, israeliani, in coalizione. Quale protesta c'è stata dall'inizio della guerra? Zero. Zero. In episodi passati, gli arabi israeliani dimostravano. A questa volta, nessuno. La stessa ucciso Giordania, dove Hamas pensava che ci sarebbe una rivolta di massa di tutta la popolazione, c'è stato quasi niente. Ramadan, loro hanno promesso che ci sarà un, come ha detto, un flood, come si dice, un dilugio, dilugio di Ramadan, non è successo niente. Perché? Perché tutti capiscono che Hamas ha lanciato un attacco di sorpresa, prendendo nessuna precauzione, nessun pensiero a cosa sarebbe successo il giorno dopo. Ottobre, hanno pianificato l'attacco benissimo, ottobre 7, e niente per ottobre 8, 9, 10 e 15. Hamas è riconosciuto come la storia dei sessi palestinesi, dice. Stacco la storia dei lager. Non hai visto i filmati che fanno vedere case di appartamenti, stanno vedendo ville, come questi ospedali che sono migliori di qualsiasi paese sottosviluppato o erano prima che li hanno usati. Gaza non è un lager, dice. Io parlo come sempre di rapporti internazionali. Perché non si protesta? Perché vi è un regime di apartheid. E questo è il rapporto del quale ho parlato la volta scorsa e l'ho portato oggi, di Amnesty International. Si intitola, rapporto prima, precedente al 7 ottobre, l'apartheid di Israele contro la popolazione palestinese, un crudele sistema di dominazione, un crimine contro l'umanità. Questo prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In Cisgiordania, dove non esiste l'ala militare di Hamas, sono state arrestate oltre 8 mila persone negli ultimi 5 mesi. Vengono arrestati minorenni, bambini di 12 anni, 13 anni, che marciscono in carcere in Israele. I droni israeliani in Cisgiordania hanno fatto strage di civili palestinesi. Non a Gaza, in Cisgiordania, nella casa dei palestinesi, dove per il diritto internazionale, Floris, gli israeliani non dovrebbero starci per il diritto internazionale. Sono coloni, sono invasori. Lì ci sono l'invasore e gli invasi, ma nessuno in Europa se ne preoccupa. Lutvak, tu citi Amnesty International come se sarebbero autorevoli. Non sono autorevoli, sono assolutamente di parte, in maniera partigiana, nel senso più totale. Allora, vi chiedo l'ultimo passaggio, Lutvak di Battista, vi chiedo l'ultimo passaggio. Rafa, Netanyahu ribadisce, la andremo, abbiamo già deciso la data, proprio mentre si cerca una tregua e gli americani hanno più volte fatto capire che così non può andare avanti. Gli americani, Giovanni, da un lato dicono, vacci piano, siamo contrari all'operazione Rafa, inviano aiuti paracadutandoli su Gaza, tra l'altro pensate ci sono stati decine di cittadini palestinesi uccisi dagli aiuti stessi dai paracaduti malfunzionati e allo stesso tempo armano Israele. Gli F-15 e gli F-16 sono prodotti dalla General Dynamics e dalla Boeing, gli F-35 che hanno reso Gaza un Hiroshima 2.0 sono prodotti dall'Ochi del Marti, la principale fabbrica di armi del pianeta, che è chiaramente di proprietà statunitense, è partecipata tra l'altro dai grandi fondi di investimento finanziari statunitensi, BlackRock, Vanguard Group e State Steel Corporation. Questo è il male oggi del nostro mondo, il capitalismo finanziario e gli interessi delle fabbriche di armi. Lo dico con il massimo rispetto, chi ascolta quest'ultimo dibattito, questi ultimi quattro minuti, voi siete peggio di noi, voi siete peggio, perché non hai chiesto dimissione, perché non ti sei dimesso tu, quando in realtà la problematica è politica, ovvero negli ultimi anni, prima con la riforma cartabbia che ha di fatto cancellato un'ottima legge fatta all'epoca dal Movimento 5 Stelle e la Spazza Corrotti e oggi con delle politiche di questo governo che fanno strette sulle intercettazioni e bavaglio alla stampa che pubblica determinate informazioni rispetto alle inchieste che riguardano politici e politici bianchi, chi ascolta questo dibattito negli ultimi 5 minuti, che cosa farà alle prossime elezioni? Non andrà a votare. Peggio per lui però, Piccolotti, Piccolotti, Magliaro, poi torniamo quando si sono calmati a Bocchino Fusso. Uno, manca una legge sul conflitto di interessi, manca una seria legge anticorruzione perché è stata smantellata e in questo paese i colletti bianchi in carcere non ci vanno mai rispetto a Germania e Francia e un'altra cosa poi, la maggior parte di questi scandali, Bari, Piemonte, anche l'ha citato Bocchino, l'ex consigliere di Palermo, voto di scambio, riguardano che cosa se ci pensate? Inficiano l'idea della validità delle elezioni, perché parliamo di voti comprati con fritture di pesce, buoni di benzino, buone tostradate, questo inficia un po' di più. Quando io difendevo il reddito di cittadinanza e l'ho sempre difeso, facevo anche un discorso, guardate che il reddito avversato da tutti, è anche un sistema buono per evitare il voto di scambio. E quello non lo so, perché se uno è portato a incassare non è che si ferma. E però la povertà, perché oggi costano 50 euro un buono di benzina, perché esiste anche il disagio sociale. I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni a partire dal governo, hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai TV, alcuni grandi giornali. Questo lo disse Berlinguer quando sollevò la Costino Morale nel 1981. Che cosa è cambiato da allora? Da allora è cambiata che la situazione sia incancrenita da tutte le parti, perché mentre si discute dei guai del Partito Democratico, ricordo che oggi è stato arrestato a Palermo l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale, reati ipotizzati, voto di scambio, concorso esterno e compagnia cantante. Prima Calenda parlava di conflitto di interessi. Il problema grande è il conflitto di interessi. Vero. I conflitti di interessi sono dovunque. Fino a che era vivo Berlusconi era comodo parlare di conflitto di interessi e si pensavano che fosse soltanto una questione che riguardasse lui e le sue televisioni. I conflitti di interessi riguardano appunto i rasso locali, le tessere di partito, riguardano la predominanza dei partiti politici e il sistema sanitario che purtroppo è stato incancrenito dal sistema partitocratico. Riguardano le banche. Quindi non era diverso. Per me non è mai stato diverso. Io ho sempre contrastato il partito democratico politicamente. È evidente che questi ras, l'ashline se li ha trovati. Questo è evidente. E quando ha fatto il suo discorso di insediamento ha detto sarà compito mio colpire, diciamo eliminare, lo deve fare. Per me questa è l'occasione che ha il partito democratico. Io sono un avversario politico del partito democratico, lo sono sempre stato. Prima dentro le istituzioni e ora fuori, all'occasione di fare tabula rasa, anche a costo di fare una scissione interna.